Abbiamo appena ricominciato con la nostra iniziativa qui al centro di Arese fra dieci minuti ci sarà una lettura organizzata e promossa dalla libreria Mondadori quindi a tutti i piccoli a cui piacciono le api converrebbe fare un giretto dalle nostre parti perché fra dieci minuti sentiranno una, due, più storie bellissime che hanno a che fare con le api l'ambiente e la biodiversità siamo qui e vi aspettiamo il progetto Go Green Grazie a tutti Grazie a tutti Ciao amore, come ti chiami? No, offerta rifiutata Giovanni, ti piacciono le api? Tra poco ci sarà una lettura organizzata dalla libreria Mondadori che ha a che fare con le api l'ambiente e la biodiversità per i piccoli ma anche per i grandi genitori, nomi, zii vi accogliamo tutti vi aspettiamo qui alla nostra postazione Grinde grazie a tutti a tutti Grazie a tutti.